no 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 vado sulla banca sopra il nome cavalla rapina via quante ne facciamo? 3 o 4 ne possiamo si cominciate fate la rapina alla banca eh aspetta non dare nella gioia in città questo è l'ultimo ce ne andiamo a te ne porti meglio non rischio chi è? sono filo ma non potevo dirlo cazzo mi ha toccato su rapina una banca no ma sono con voi cazzo siete rincoglioniti? io lo so che stai con noi vai 4 a ciascuno cosa 4 ciascuno? 4 lingotte stai rapinando tu io si sali 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 vai vai oh c'è un ripottolo qua sto facendo un elicottero a bo di vederci ci ha visto questo è poco ma sicuro vabbè continuo a camminare perché tanto lui finisce la benzina è vero o alzare pensa nella stessa casa voglio voglio vedere sì con i milini l'università hanno detto l'università zitto cosa ha detto è tutta la cazzo tu ancora dietro sta? eh non lo so sì è più alto però sto sempre dietro ma tanto prima o poi devi finire la benzina sto a basterli vabbè vedi di cambiare strada ogni tanto se non si ferma prima e ci fa il culetto non è un'altra cosa ma ne vado nei campi allora se vede un'elicottero sono io ah sei tu il sergente ommi? fa piacere sapere mi sa che se ne sei andata ah non sono il centro e ci mancherebbe comunque forse sai come conviene dove ci sono tutte le canne no con le piantagini da tipo sì 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 cosa no forse c'è si è fermato l'elicottero continuo a camminare verso se è fermato tipo ci vuole fare il blocco stradale capito? ma qual è il blocco stradale? la canne che chissà ma lo prendiamo prendiamo nelle montagne non sa se zappa conviene che continua a camminare no dico perché lui pensa che ora tu l'hai seminata e vai per la strada rossa e batti ha tagliato si ferma la strada rossa no dico a fare ma non c'è da bambina no no non male che non c'hanno messo ancora i missili raffa 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 oh bro guarda come mi giro guarda lì non so se ne sento raffa le schiene per armati raffa 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 Oh, c'è la polizia, c'è l'auto anche C'è l'auto Che bastardi Facci uccidere, facci uccidere Io vi faccio non ci vado in galera Oh, stanno sparando Scappa, scappa Sto scappando Allento come la morte, è cotto Andiamo alla casa, andiamo alla casa Almeno proviamo di uccidere Scappa, scappa Andiamo alla casa Sì, comunque sulla salita sei più veloce tu Mi fermo qua No, no, continuo, continuo Tanto sei più veloce tu rispetto alla salita Ma con cosa state scappando? Un quad Vai che forse è sbattuto Vai che non ce la fa Vai, vai, vai Cazzo sono due Cazzo sono due Dai, calo Mi prego Allora Zocca, due sono le cose Molti vogliono fare l'imboscata Quindi c'era a sinistra A sinistra Vai verso sinistra Oh, merda Certo, certo No, no, no Verso sinistra Verso sinistra Ma puoi pure Perché una macchina è andata verso destra Sono due Cazzo Eh, ma siamo dei poveri cittadini Che vanno a fare funghi Che vanno a fare funghi Guarda un po' Funghi d'oro Ah, stai molto schifo Fai dei funghi d'oro Andate da fino a Masotto Che sta a fare le rapine Ma fino a sarà qui il puzzle Lasciano stare Io direi di scendere e sparare Tipo a un certo punto Quando loro non se lo aspetta No, se lo aspetta non sempre Che sparare Oh, gli ho scritto Gli ho scritto Signori poliziotti Stiamo a fare i funghi Vai, vai, continuo, continuo Tutti per male Chiuttosto Allora, cambia subito Allora, mo che te lo dico Io mi hai subito a sinistra Attento che fanno le roche Ora Ora lo vedo a sinistra Lo ultrafai Dove c'è fare Il gold senza armi Rotto Ma sai che è rotto Vai, vai Destra, destra ora Dai che prima o poi si stanca E io mi stanco pure però Sto a morire di fame quasi Eh, ti vorrei andare il cambio ma No, meglio di nuovo Piuttosto muoio di fame Questa qua davanti a te A ore 12 Grazie mille S'atterrà quel bastardo Via, via Ma tre macchine Sono tre Guide, guide, guide Ma attento T'ha nangatastato Ok Vai, vai Sì, disi Raga Raga, vi aiuto Piuttosto ci prendono morti Vai, vai, vai No No Raga, vi aiuto Io hanno adeggiato Vada a fare questo Tu stai comunque Accelera Non mi fa accelerare Ma lui l'ha fatto Fai retro mattimo Fai retro mattimo Vai, vai, vai Vai, vai Te lo vai Non andaci a brucare Il suo diesel Guarda il suo diesel Guarda, vai, vai Che scendolo Ma, vai, vai Che scendolo Ma uno che te li vuole Accelera subito Eh, mi ha bloccato Vai, vai Indietro, indietro, indietro Buttalo sotto Noo Stavo scendendo Qua non è stato ucciso Oh, ma uno non può manco fa funghi in pace, oh! nemmeno i funghi ci possono fare madonna, nemmeno i funghi, vergognatevi no no, zoppa, zoppa devi mettere su youtube, devi mettere su youtube oh, io e i cartoncelli stavo andando a fare ma è possibile che uno non può fare manco un po' di funghi un polistrato, un zub è un hatchback è un elicottero quindi lo vanno a fare uno che lo hanno matto se lo pigliano cold po' oh dai la prossima volta che vi danno gli elicotteri con i missili ci prendete siete fortunati che non c'eravamo l'hatchback, sennò vabbè ma se ci trovavamo un zub e mo ci pigliamo comunque io devo capire come ci ha fatto sparare a brugo da dentro la macchina che ci fate prendere il sole adesso? siamo abbastanza abbronzati non è vero cazzo signor poliziotto almeno mi faccia compagnia mi stanno pigliendo a me i poliziotti che hanno testato voi oh tutti i secchini quando hai fatto quel video quando li tenevamo dietro a quelli che correva si si ce l'ho tutto registrato poi piano cold tre macchine nell'elicottero oddio hai sentito il raffaello manca ma solo un numero racconto agente cosa stiamo aspettando ecco perchè la patente si compra ah forse i medici stiamo aspettando eh non c'ho la patente ecco perchè ah forse è per la patente che non tengo scusatemi no il quote si può guidare anche senza patente ah no il quote si può guidare con la patente oh ah senza e quindi senza patente no per la patente perchè sono andata fuoristrada ragazzi ah per la fuoristrada e serviva un elicottero e tre macchine per andare fuoristrada beh noi siamo siamo protettivi ah qui eh lo so i funghetti sono illegali sull'isola per funghetti sono illegali sull'isola per ma noi noi non li spacciavamo i funghetti non ti preoccupare faccio dei funghi ci facevamo il risotto poi nel caso mi invitavamo pure a pranzo e voi sparate subito cioè mi facciamo pure un favore e voi sparate non ho capito cioè questa gente mo vabbè sabato a casa mia facciamo un bel risotto sempre se me li lasciate i funghi sei invitati? si si siete tutti invitati carru! carru! di niente di niente ah mi stanno a portare e gli devo fare 5 km a piedi mi devo fare ma non c'è chi la che mi spara la gente mi sta caffiando la faccia mi sta trascinando con male alla nuca faccio attenzione almeno la forza del sole che sennò si prende l'insolazione eh grazie voi agente dovreste avere la crema solare però insieme all'arma d'ordinanza ma no grazie mille ma vuoi spiegare come è successa la prima volta ho fatto una figuraccia perché sto sceso però sto sceso non mi sono reso conto di quanto andavo veloce sono andato sotto la macchina ho bucato pure dopo sono ripartito vuoi ritrovato e vuoi serato ah benissimo e non sei morto però eh che culo che c'hai che culo ah si uno va sotto una macchina ah che bella la vita ma voi ci lasciano qua vero? si si stasera si mangia funghi comunque basta che scolpisci sound muted che cosa? 8 lingotti ciascuno 8 lingotti ciascuno si noi funghi stavamo facendo eh 8 funghi per una no no funghi funghi proprio abbiamo il cestino nel quad ah un elicotro sound muted risulto gente dove si va gente? con la rotellina ci vede benissimo ma un pacco di drogi esattamente bene chi te lo ha detto? ma vedi che è Raphne non so io che ti pare che mi stai giusto il cavolanno? andiamo a fare funghi tutti insieme comunque bella azione si si ce la meritiamo funghi illegali ehm è finita la nostra azione eh lo so dopo dai carica il mio ehh eh dimmi dimmi dì chiamo a briscola no no a mio proprima Aspetta, vengo più vicini Che da parte?